È uno strumento dell'intelligenza artificiale, è comunque l'uomo che determina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In tutti gli ambiti del nostro vivere può essere un acceleratore in positivo di qualunque attività, comeppure può diventare un acceleratore negativo. Bisogna usarla a favore dello sviluppo. Le aspettative sono che ci sia nei prossimi mesi un recupero anche in Germania, più vista come una recessione tecnica e non strutturale. Poi speriamo che questa collaborazione tra i diversi paesi europei porti ad avere al centro la crescita economica di tutta la guerra. Il Presidente della Gonzo per il suo intervento come ha sottolineato l'importanza del risparmio e del risparmio della organizzazione? È fondamentale la grande esperienza del Professor Savona che ha vissuto periodi di alta inflazione anche da Ministro. L'ho portata da un quadro molto lucido di cosa è l'inflazione e quali sono le idee per uscire. Il Governo potrebbe intervenire con la Golden Power Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.